E' cominciata presso il Sabarà di Ceriniola il primo appuntamento di Una Pinta di Libri, organizzato da uno dei locali più longevi della cittadina Dauna, in collaborazione con le associazioni Oltre Vabele e Made in Blue. Quattro martedì in cui l'autore di un libro presenta la sua opera, mixando con una sana vera da gustare il piacere dell'ascolto. Introdotto da Maria Blusca Ringella, l'esordio è stato di Alessio Viola, con il suo tistrappo e tigetto in vasto ai cani, in cui il tema è il cancro, inteso come malattia, ma con la convinzione di non isolarsi in un confronto tra lui e sue ex compagnie e gettarlo via quanto prima. Prossimo appuntamento con la rassegna mix birra libri, martedì 14 luglio.